vai andiamo in un labirinto sotterraneo di essere un giorno o ma ci sono delle pavie che cosa all'angoliere ma guarda questo significa che inizia a chiudessero che è bella questa atmosfera con le pauci grazie che mi salvata la vita ma questi occhi che fanno questi mob che fanno avessi il coltello come sono avessi il coltello sarebbe molto più visi comunque mi sa che gli occhi non devono essere ittati sai? bello bello mi piace molto fammelo riprovare va? vai tu io quando ci sei fatto mi agito mi piace il livello di colore viola mi piace l'idea dei denti che sono tantissimi e il fatto che si muova lentamente tutto molto vivo io penso che gli occhi se tu li ti sono delle trappole ma pure i testi? tutto è trappola però sono praticamente cosa succede? sparano delle brecce sei ma morti? sparano delle brecce cioè la pianta che può uccidermi la pianta è una vittima uccisa occhio a quello che ti scende pure eh vaffanculo c'è una fata ah fata riprova ancora io? riprova sempre tu per adesso perché io qua mi abbraccio qualcuno della chat vuole venire qua e giocare per me aspetta i testi bisogna ucciderli prima se mi tocchi è un macello ti aggrano io faccio la pioggia dall'alto no ma sono un coglione qua io aspetta mi fai un coglione uccidimi la pianta se puoi si è terribile che punta quegli occhi ma sono morto aspetta ok grazie occhio qua perché inizio non arriva a miglia eh mamma mia occhio pasata eh non ti scattivo la situazione è brutta occhio questa che arriva per terra occhio questa che arriva per terra era troppo tardi dovrei tornare indietro indietro ma cazzo parlo oggi allora qua mi sa che non è una buonità il doppelganger mi sa che è meglio la tempesta perché dopo il doppelganger bisogna di più testa per usarlo poi è troppo incalzante comunque non c'è la pianta vai vorrei i miei coltelli forse è il mio amico no guarda i coltelli nonostante prima delle prime armi il coltello è il migliore confermo che per ora allora il cerchio di Xena è meritevole però non è è un po' indietro sempre quello non so non sono morto però facciamo così guarda farmi fuori la pianta appena puoi grande è una pianta di merda questo cala pure spero di no oddio ma ci sono i vrap però il demonio perché non spara perché sei in porto no prima ero vivo poi obiettivamente a vedermi oh oh corri 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 aspetta grande 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 ma donna mia ti metti un'ansia a sto livello è una cosa tipo una pianta tipo Tremor si sto perdendo tutte le pade mamma mia qua qua potresti rimanere schiacciato eh si molto figlio sto livello eh la pianta fammi fuori grande questo ho paura che cagli hai di fatti no però ti schiaccia uuuuuh fico io devi abbassarti aspetta faccio fuori degli stremi corri 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 nooo in merda però qua conviene usare la tempesta sai vuoi provare tu vado io vai 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 tu perché io quando ci sono i mob mi preferisco fare i lunghi percorsi consiglio fortemente la tempesta e schiacci no questo è schiacci no fanno di fare la pianta cazzo grande oh no dai qua sotto prima che vieni i mob allora adesso vado eccovi Nooo le spire Eh questi sono tosti E qua come un passo Oddio si è animato Non so come si continui di qua Ma è bellissimo Oh mio dio ma che cos'è Una fogna Un brufo gigante nelle fogne Ma che cazzo di figata è Comunque il suo gioco è uno spettacolo grafico Ma che cos'è Cosa succede aiuto Ti muoverà di suo Dove devo andare Rimani in me Ah ma si deve uccidere Non lo so Ah si Occhio per pericare Però se muore io vado No 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 Perchè una si risolleverà Oddio dei goleotteri delle larve Bichissima Andiamo andiamo Però non ho preso Vessili Ho preso Vessili Non ho preso Vessili Sì ho preso Vessili Ah fantastico Proprio ora Falta Qua è inutile Lo devi fare inutile o qua No quello ti arrivo per quando arrivano Sono 340 mila larve Ora si rinaglia Ora faccio io Ok Ora si rinaglia Eh avremmo dovuto il tarlo Sbagliato No dobbiamo prima il tarlo e poi va alla passare delle larve Ora ora il tarlo Quando si conta molto Mi si conta in due parti Ecco le larve Questo essere Mi sa di Bugs Life Z della formica Quando facevano Una bellissima carvalla Sì quando facevano Questa cosa è inutile Tieni Tieni tra me dopo poi Sì sì Ora si alzerà Ho un'idea E se usassi il masso per uccidere le larve Pure Adesso non dobbiamo il tarlo Adesso non dobbiamo il tarlo Adesso non dobbiamo il tarlo Adesso ritornerà giù Ora si può il tarlo Quando si viene Tu pensi fino alle larve Io vitto delle cose Il tarlo sarebbero le uova Il tarlo sarebbero le uova Grazie Bruno del ferimento Perché queste stronze Mi buttano nella fogna Perché devono andare nel centro Se ne approfittano perché dice Questo è un maiale di fogna E quindi è una trappola Gli piacciono le fogne Ma a me piacciono le fogne Non queste qua Degli insetti Quelle dei maiali Ognun animale ha le fogne di vero Allora ricordati che devi tornare sul dorso Appena si inizia a riambassare Eh si E preparati lì La spelle Appena mi sposti là Ok preparati con le cose Eh è utile qua Non so quanto duri però Ok vai verso il centro Vai verso il centro Eh che so Mamma mia Mamma mia Quanto sono pro No no devi venire verso di qua Verso di qua Verso di qua Perché lì l'abbiamo già fatta Devi cambiare le telecamere di là Da verso di qua Infatti faccio un po' di queste cose qua Perché dura sto merda Rimani a sinistra adesso però Uccidimi questo E' coriace Vediamo che è coriace Medistocio Mi dai dei prughi Sono delle bellissime Fala Fala Non è un po' di uccinza Sta perdendo dei Medistocio nel caso ci fosse una Questa cosa Ma era un po' di Sì Era una punata Era una punata No no quello è quello malefico Ce l'ha Dai cazzo no Ho perso tutte le luce La gelatina Questa cosa è bellissima Ma tipo Facciamo un film Ad esempio I langolieri Di Stephen King No ho sbagliato Mamma mia Questa misura Fantastico Questa parte Comunque questo mondo E' fantastico I disegni sono meravigliosi Vai alla mente Dove sono? Sì sì ma non mi trovo Come è fuori Fa anche una sfiga Ah ma ci sono Delle testo Non mi che l'avevo capito Una chigliottina Ma lo sapevi Nella destra Ah ecco Era totalmente inutile Il mio sport Per evitare Mamma mia E qua no Dove cazzo devo andare A sinistra forse Qua adesso Raffanculo Qua musica Deve evitare Nel fondo Non lo voleva vedere Ah devi scegliere Eh devo andare Sì Ma è gravissimo Bisogna capire Il percorso qua Ah poi c'è il boss Fa saperlo Ho visto la disegno Della mappa Dalla porta Dove è la mappa Aspetta lo faccio vedere Appena muovi Stai su Stai su Stai su Stai su Ok Stai su l'armatura d'oro sono un sentiero! l'ho persa! l'ho persa tutt'ora e l'ho guadagnato una pipa di merda l'ho guadagnato, qua dove è andata? si lasciate con me! cosa c'è di là? non lo so, ma dove sono? ok, ci siamo levati la merda, l'arma... vai 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 vai, ho preso una fata dobbiamo resurrezione doppio voltello! oh mio dio, dovevo scendere giù! dovete non andare! aiuto! è grave perché ti chiude la cam! è molto intelligente questo punto, eh! help me! vai! il tuo sacrificio non sarà in vano! il tuo sacrificio non sarai vano! mettiti giù! mettiti giù! mettiti lì! esatto! sali! 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 sal se no dice ci barnava però vuol caldo che fa fa dove vado scusami non vedo percorso devo rimanere lì secondo me il percorso scende giù però se vedi la porta è vista la volta se la minimappa si vede quando muore o quando moro rimane lì guarda è cambiata la tex grazie a tutti